Grazie, buona domenica. Non si tratta di vera vendita perché i proventi andranno a beneficio della chiesa della Gancia che ogni domenica e durante la settimana offre un pasto alla gente povera e all'attenzione senza fissa a temore. Sta andando a vendita questa beneficenza stamattina è listata alle 9 e sta andando abbastanza bene per quanto riguarda questa piazza. Così ritengo anche nella piazza Manina e davanti le chiese, diverse chiese di Palermo. Noi saremo qua fino all'esoramento del mandarino, penso che sia una cosa molto veloce perché così almeno la beneficenza può andare in porto immediatamente.